E' nuovo aumento di contagi in città e in provincia, sono 469 pazienti positivi impennata del virus, 154 sono i pazienti riscontrati a Gela, 129 a Caltanissetta, quasi il doppio delle giornate precedenti, si conta ancora un decesso. Restano stabili i ricoveri in ospedale per ciò che riguarda il riparto di malattie infettive, sono 45 i ricoverati, sono 3 invece i ricoverati in terapia intensiva, resta stabile dunque il numero degli ingressi. Mentre aumentano i numeri rispetto alle città della provincia in proporzione, infatti sono 713 i positivi in quarantena domiciliare, a Caltanissetta sono 16 i positivi in malattie infettive. E' per ciò che riguarda Gela, sono 967 i positivi in quarantena domiciliare, mentre sono 10 i positivi ricoverati in malattie infettive, per un totale di 3156 pazienti positivi in tutta la provincia.